... Martedì 12 gennaio, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV siamo in onda come tutte le mattine alle 7 e mezzo in diretta buongiorno anche naturalmente chi ci segue in replica nelle altre fasce orarie compresa quelle delle 9, 10 e delle 13 e 30 questa è la rassegna dicevo, tra poco i giornali vediamo il santo del giorno oggi è Santa Margherita, il sole è sorto alle 7 e 40 tramonterà alle 16 e 52 minuti mamma mia che vento questa mattina, questa notte un vento terribile che continua a soffiare impetuoso e sta creando anche un po' di danni in giro per la regione però le previsioni per oggi della protezione civile delle Marche cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso con addensamenti nelle zone interne la quota neve sarà attorno ai 1600 metri in progressivo abbassamento fino ai 1100 metri dalla serata perché poi, sapete, cambieranno i venti arriverà il freddo, il gelo siberiano a partire da giovedì-venerdì poi le temperature comunque ancora sono stazionari in lieve diminuzione nei valori massimi, eventi forti, forti sud-occidentali con l'intensità che andrà ad attenuarsi nel corso del pomeriggio per domani, mercoledì 13 di gennaio avremo cielo sereno o poco nuvoloso i venti saranno moderati, le temperature in lieve diminuzione poi ecco comincia a cambiare un po' il tempo giovedì 14 avremo un cielo che sarà inizialmente poco nuvoloso poi però aumenterà la nuvolosità nel pomeriggio le precipitazioni nevose anche intorno ai 1000 metri poi temperature in diminuzione nei valori minimi e eventi deboli sud-occidentali probabile tempo a tratti instabili anche nel fine settimana con temperature in ulteriore diminuzione dunque in evidenza sui giornali di questa mattina naturalmente c'è la protesta ieri in regione sotto la sede della regione ad Ancona con tanti cittadini compresi gli amministratori di molti paesi, molte località dell'entroterra che hanno manifestato contro la politica sanitaria della regione Marche in particolare le scelte di Luca Ceriscioli il presidente, lo vedremo tra un po' ma ci sono anche le storie come questa che racconta questa mattina il resto del Carlino un uomo, un uomo di Pesaro, un 67enne si chiama Luigi Federici lo vedete in questa fotografia è da 4 mesi in attesa di un processo in una cella di Caracas in Velezuela è stato arrestato nel settembre scorso nell'aeroporto della capitale sud-americana mentre rientrava in Italia portandosi dietro due valigette due trolley di uccellini amazzoni dunque c'è il racconto questa mattina della moglie di Federici vi racconto l'inferno di mio marito arrestato per traffico di volatili il mondo addosso siamo costretti a vendere tutti gli uccellini e dobbiamo dare via anche il cane questa è la storia e l'intervista che potrete leggere sul giornale di questa mattina poi a Fossombrone invece una donna che ha chiamato direttamente il 112 i carabinieri dicendo che c'era una bomba un pacco bomba all'interno dell'ufficio postale del paese telefono alle poste c'è una bomba paura ieri mattina nell'ufficio di Fossombrone evacuata ovviamente la struttura tutto però è risultato ok dopo il controllo, la verifica dei carabinieri che si sono avvalsi anche dei cani dopo circa due ore è ripreso il servizio poi dicevamo dei danni che sta provocando il vento ma questa è la cronaca di ieri quando ancora il vento non era così forte come quello di questa notte il vento fa danni cade un pezzo di finestra in testa di una studentessa all'istituto Raffaello di Urbino un cassettone ferisce una ragazza Urbani invece è volato via un tetto e molti sono gli alberi sdradicati dalla forza del vento i ragazzi della scuola oggi non entrano per protesta poi la ricetta possiamo chiamarla così speriamo sia una ricetta da poter copiare di questo nonno pesarese che è arrivato a 104 anni il segreto è, dice lui, non fermarsi mai Giorgio Carosini ex Falegname racconta la sua vita e dà una ricetta mio figlio dice ha 73 anni e ho anche 4 nipoti lo vedete in questa immagine Giorgio Carosini dice in tutta la mia vita è stato il giorno più bello è stato quando ho sposato a Fano, mia moglie Silvia che bello, che tenero allora andiamo adesso sull'altra pagina invece quella di Fano del resto del Carlino la nautica Stefanelli che ammaina la bandiera dopo mezzo secolo di attività fallita la società che fu leader nel mondo davvero un altro pezzo di storia della città di Fano che se ne va negli anni 70 Costanzo Stefanelli aprì l'attività commerciale per la vendita di piccole imbarcazioni motoscafigo, moni e surf l'attività crebbe fino a diventare primo leader primo dealer in Europa per la vendita di Boston Whaler mentre in Italia l'azienda aveva l'esclusiva su diversi modelli del Boston da 6 a 11 metri insomma una potenza questa azienda che però purtroppo è costretta come abbiamo visto a chiudere i battenti la sanità ancora sulle pagine del Carlino questa volta da Fano tac fuori uso, l'iniettore saltano gli appuntamenti guasto già risolto assicura Cattò solo 8 forfè ogni giorno 50 esami per una trentina di pazienti i tempi di attesa sono tutti nella norma andiamo invece a Cartoceto dove si fa il punto della situazione dopo il crollo delle mura servono altri 2 milioni per completare l'opera ricostruzione il sindaco Rossi fa il punto della situazione a saltare invece ecco ancora i danni del maltempo soprattutto nell'entroterra come dicevamo il vento rovescia un tronco di 10 metri è stata colpita anche un'auto tragedia sfiorata sulla strada provinciale Monbaroccese cambiamo giornale adesso andiamo sul Corriere Adriatico chi ha sbagliato ora deve pagare parliamo della Rincicotti-Orciani la relazione finale di Roberta Ansuini presidente della commissione di garanzia e controllo mentre qua in alto vedete a sinistra del vostro teleschermo Renzo Rovinelli il presidente di Aset che nel 2003 acquistò per un milione la Rincicotti-Orciani poi sotto Renato Claudio Minardi all'epoca vice sindaco che approvò l'acquisto nell'assemblea dei soci di Aset e poi Stefano Guzzi sindaco negli anni della svalutazione e delle perdite dell'azienda l'altra pagina invece stop alle auto così ora il centro storico di Fano rivive Tosi ambientalista Enrico Tosi rilancia la richiesta degli ambientalisti altrove gli esercenti l'hanno capito eliminando il traffico vie e piazze sarebbero più attrattive occorre un provvedimento complessivo poi anche sul Corriere Adriatico c'è la fotografia questa fotografia che riguarda un'auto un'auto che ha compiuto una manovra un po' particolare e rimasta in bilico sulla rotatoria dell'Interquartieri siamo nella zona di San Cristoforo tanto spavento per la donna di 40 anni una donna fanese di 40 anni che era alla guida di questa auto che è rimasta in bilico lo vedete su questa fotografia dicevo Citroen inclinata resta in bilico tanto spavento è stata portata all'ospedale ma nulla di che per fortuna pasticceria pasticceria tra passione e business un settore in forte crescita dai corsi professionali alle sfide amatoriali è un vero boom in scadenza le iscrizioni per la formazione di conf artigianato e la partecipazione a Cake Edition che è un concorso che è la versione dolce la versione pasticcera del Masterchef fanese insomma Masterchef Chef in the City andiamo sulla pagina di Senigallia invece perché è ancora viva l'emozione dopo l'ingresso in diocesi del Vescovo Franco Manenti niente auto il Vescovo inforca la bicicletta Franco Manenti non sarò sprint come Don Matteo dice ma mi piace quel contatto umano con la gente che è un po' il contatto umano che ama tantissimo anche il Papa e del quale soffre anche molto quando non può uscire liberamente come faceva quando era cardinale tra le priorità in agenda del nuovo Vescovo di Senigallia l'incontro con i carcerati con gli stranieri è tutte le mattine messa alle 8 sulla pagina di Pesaro invece del Corriere Adriatico un nuovo software per scovare gli evasori fiscali lo strumento sarà a disposizione di Aspes mentre documento di programmazione nessun aumento di tariffe resta il rebus per la Tari ed è ancora aperto il confronto tra associazioni e marche multiservizi poi c'è un'iniziativa che è stata presentata in sede in comune a Pesaro il fascino della street art protagonista al Tattoo Expo 2016 tre giorni fra tatuaggi, graffiti esperti che arriveranno da tutto il mondo allarme bomba anche qui sul Corriere allarme bomba all'ufficio postale di Fossombrono una voce femminile annuncia il pericolo al 112 poi sopra invece Bibi Cecchini oggi torna in procura si parlerà del ritratto di Isabella d'Est attribuito a Leonardo dove è indagata per illecita esportazione andiamo adesso invece a vedere il messaggero il messaggero si occupa così come anche gli altri giornali ma abbiamo scelto il messaggero per parlare di sanità e della protesta che c'è stata ieri ad Ancona eccola qua a centropagina in prima pagina sull'inserto pesarese sanità assedio senza risultati Ceriscioli assicura la riforma andrà avanti a centinaia ad Ancona per la chiusura dei piccoli ospedali entriamo allora nelle pagine interne con tanto di fotografie anche qui titolone con la determinazione del presidente Ceriscioli che dice la riforma comunque va avanti consiglio regionale assediato per ore da decine di cittadini dell'entroterra e dalle mamme dei punti nascita chiusi concesso il rinvio della scomparsa della lungodegenza e un medico H24 i piccoli ospedali diverranno poliambulatori il governatore ottiene il sostegno della maggioranza di centrosinistra i sindaci invece parlano di una presa in giro Gambini per esempio di Urbino dice calpestata la democrazia poi sull'altra pagina del messaggero parla anche Matteo Ricci il sindaco di Pesaro che dice io ho firmato niente drammi però con Luca certamente Luca Ceriscioli non è più come prima irritato per la nomina della Capalbo il sindaco di Pesaro ora chiede condivisione il timore di doversi far carico dell'entroterra occorre confrontarsi per trovare soluzioni forse già oggi un vertice con il governatore siamo pronti a ripartire tutti insieme e dicevamo del quadro il quadro di Isabella sapevo che era un dono per un avvocato dice Bibi Cecchini che oggi pomeriggio è attesa in procura dai magistrati l'indagine sul Leonardo un pittore di Brescia avrebbe eseguito il dipinto su commissione il suo racconto nelle carte dell'inchiesta poi la provincia o meglio le raffiche di vento a più di 70 km orari scoperchiato il tetto di un'azienda numerosi sono gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto all'interno della provincia di Pesaro e Urbino andiamo adesso per chiudere la rassegna stampa nella pagina di Fano che apre con la rincicotta e Orciani Comune e Aset devono chiedere i danni la presidente convocherà una nuova seduta della commissione di garanzia e controllo Roberto Ansuini dei 5 Stelle invita il sindaco serie a valutare possibili azioni legali e di risarcimento nessuno in tutto questo tempo mi pare abbia avuto il coraggio di scoperchiare la pentola e sotto invece gli sbandierettori fanesi al carnevale della Nigeria e poi Forbici controllerà la buona viabilità Forbici è un'associazione ambientalista dei ciclisti che ha incontrato il sindaco Seri e l'assessore fanesi è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa vi ricordo che le vostre segnalazioni sono molto importanti tra l'altro quella che arriva per prima e quella in esclusiva viene premiata anche con una ricarica telefonica di 5 euro quindi c'è anche il vantaggio di una ricarica quindi se vedete qualcosa che può essere utile per la nostra redazione sempre occhi aperti cellulare in tutta sicurezza non in macchina chiaramente cellulare in mano scattate foto e video e inviate tutto a redazione chiocciola fanotv.it oppure occhiolanotizia.it oppure su whatsapp o scaricate la nostra applicazione su google play oppure sulla apple store grazie per averci seguito buona giornata a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.